Musica Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa del mattino 7.30 in diretta con Occhio ai giornali buongiorno anche a coloro che ci seguono dalla nostra pagina Facebook Occhio alla Notizia allora partiamo dal Santo del Giorno perché oggi la Chiesa Cattolica tra i tanti santi ha anche questi, Santi Nicola Tavelic, Stefano D'Acuneo, Deodato da Ruticinio, Pietro da Narbona il tempo, il sole è sorto alle 7.01, tramonterà alle 16.44 dicevo il tempo, insomma qui sulla provincia, almeno qua dalle nostre parti in provincia di Piesa Urbino è andata forse meglio rispetto a quello che era la previsione ma comunque ancora per oggi avremo una situazione piuttosto complicata con diffuse precipitazioni, soprattutto all'interno, sparse altrove in temporaneo indebolimento nelle ore pomeridiane però poi dalla serata di oggi è prevista una nuova intensificazione dei fenomeni nel settore meridionale della regione con precipitazioni diffuse le nevicate si attestano intorno ai 1.000-1.100 metri inizialmente questa mattina presto ancora 6-700 metri al nord poi in graduale rialzo fino a 1.000-1.100 metri in serata le temperature stazionarie o in lieve diminuzione attenzione eventi forti dal nord-est, in particolare lungo la costa per domani non cambia di molto, va via la neve come vedete però continuerà a piovere per tutta la giornata saranno precipitazioni abbondanti nel settore centro-meridionale le nevicate sopra i 2.000 metri, le temperature senza variazioni di rilievo ma avremo ancora domani venti forti da nord-est sui rilievi moderati altrove in graduale indebolimento nel pomeriggio il mare sarà agitato con moto ondoso però anche lì andrà a indebolirsi nel corso del pomeriggio giovedì migliora sulla parte centro-settentrionale della regione avremo ancora però della nuvolosità diffusa attenuata e si attenuerà nel corso del pomeriggio a partire da nord e poi a scendere le precipitazioni saranno possibili venerdì soltanto nella prima parte della mattinata i venti saranno deboli dai quadranti settentrionale moderati lungo la costa probabile miglioramento nelle giornate di venerdì e sabato mentre per quanto riguarda le temperature alle 5 del pomeriggio oggi saranno più o meno di 13 gradi le massime soprattutto le più alte le temperature più alte le avremo a Ascoli Piceno e a Macerata allora adesso andiamo a legge anzi prima di andare sui giornali vi facciamo vedere un video che è girato la nostra Simona Zonghetti dopo aver condotto il telegiornale è andata subito in via Fabri in via Fabri a Fano nel quartiere di San Lazzaro dove ieri sera intorno alle 21 circa ecco è andato a fuoco questo quadro elettrico in una palazzina in una palazzina che si trova appunto in via Fabri e essendo situata praticamente vicino al portone d'ingresso ha impedito alle sei famiglie che erano presenti all'interno delle abitazioni di uscire e quindi insomma ci sono stati momenti anche un po' di paura poi sono arrivati i vigili del fuoco e hanno spento l'incendio quattro persone sono finite all'ospedale perché avevano respirato del fumo insomma ecco sul posto i vigili del fuoco polizia, carabinieri e anche il 118 di questo parleremo comunque stasera nel telegiornale ma ne parla e lo vedremo tra poco in esclusiva il Corriere Adriatico allora andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere l'edizione di Pesaro allora l'edizione di Pesaro qualcuno avrà pensato ci sarà sicuramente la notizia della tragedia della nazionale italiana che ieri ha pareggiato e quindi non parteciperà ai mondiali di calcio e no invece il Corriere Adriatico è un giornale serio e quindi giustamente parla di altro e parla dei problemi invece delle abitazioni delle ville pignorate di oltre mille famiglie che sono a rischio nei primi nove mesi dell'anno pensate sono già 189 le nuove esecuzioni immobiliari a Pesaro l'ultima garanzia cioè la casa un'arma a doppio taglio perché con la crisi di liquidità quella certezza per avere un finanziamento a volte si trasforma in una condanna i pignoramenti delle abitazioni continuano a dirci che l'onda lunga della crisi è ancora in atto l'osservatorio annuale delle esecuzioni immobiliari istituito dall'Adusbef restituisce ancora una situazione di difficoltà nel territorio nel 2017 imprenditori commercianti cittadini che perdono il lavoro ma le rate del mutuo o di un credito non si fermano e dunque c'è la disperazione qualche giorno fa ricorderete anche una persona l'ennesima purtroppo si è tolta la vita a causa di problemi economici e ecco perché il calcio francamente interessa ben poco ma a centro pagine invece distributori svaliggiati in ospedale tempestivo allarme del personale la volante della polizia sorprende due romeni siamo a Fano all'ospedale Santa Croce dove questi due romeni stavano svaliggiando e stavano aprendo queste macchinette però sono stati notati la polizia è giunta immediatamente sul posto li ha beccati sul fatto il più giovane è stato arrestato ma il giudice lo rimette subito in libertà poi una tragedia che difficile anche da raccontare davvero immane la tragedia del pozzo il papà di Florin questo bambino di 5 anni che è caduto in un pozzo gridava aiuto poi solo silenzio a pagina 15 del Corriere Adriatico troverete tutti i dettagli di questa davvero tragedia questo bambino che era con i genitori a Corinaldo i genitori stavano aspettando di ritirare l'olio erano lì perché avevano portato l'oliva a macinare e questo bambino si è un attimo allontanato è finito dentro questo pozzo e per lui non c'è stato niente da fare il racconto purtroppo di quello che è successo a pagina 15 mentre lo sport la VL respira adesso sogna di non fermarsi e poi come dicevamo in esclusiva solo sul Corriere Adriatico l'incendio in questo condominio allora andiamo sulla pagina di Fano scoppio incendio in una palazzina sei famiglie subito evacuate l'allarme scatta dopo le 21 in via Bracci due anziani portati al pronto soccorso vissuti minuti di paura perché il fuoco nel vano dell'ingresso impediva la fuga dal condominio guida dei droni sabato prima gara regionale gli ingegneri Tonucci e Penserini tengono corsi a Sant'Arcangelo per promuovere il nuovo sport quello dei droni quelle piccole macchinette che volano in aria e servono per fare le riprese ne abbiamo una anche noi le abbiamo utilizzate anche spesso per non solo la cronaca ma anche per i video promozionali svaliggioni i distributori subito presi in ospedale la polizia blocca due romeni a Santa Croce uno arrestato l'altro denunciato sotto gruppo facebook quello della fano mi piace non mi piace sospeso segni di disgelo apprezzata la mediazione del sindaco di Fano Seri per una pacificazione Caprara dice prevedo che questo gruppo riaprirà intanto qualcuno ha già riaperto un altro gruppo con lo stesso nome appaltati i nuovi lavori sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico i nuovi lavori la pista completa per Natale in un mese l'ultimo tratto della Fano Fenile per l'attraversamento del Cavalcavia sull'A14 la fotografia si riferisce al punto in cui devono iniziare i lavori per finire la famosa pista ciclabile il proprietario Castracane ricorre al Consiglio di Stato dopo il Tar ma il cantiere parte lo stesso al regbista Giacomo la borsa di studio Ciro Esposito il presidente del CONI premio il fanese di 14 anni per aver ceduto una meta ad un compagno davvero bravo complimenti il Robo Sofia invece presentato al Web Summit di Lisbona c'è qualcuno che propone perlomeno ha avuto l'idea di assegnare al Robo Sofia la cittadinanza onoraria la proposta di noi giovani per due primogeniture allora la pagina invece adesso di Pesaro e provincia per raccontarvi che all'alba di ieri mattina sono caduti i primi fiocchi di neve disagi sulle strade e si affaccia anche il freddo sono state imbiancate le località a partire dai 700 metri in su ovunque però pioggia vento e vorticoso calo delle temperature queste sono immagini che arrivano da Carpegna sopra Monte Cerignone interessate dalle precipitazioni nevose al di sopra dei 700 metri l'altra pagina quella della Valle del Cesano del Corriere Adriatico in primo piano la folla commossa per i funerali di Davide amate e aiutate i sofferenti e questo l'appello di Don Enrico che si è rivolto durante l'omelia alla comunità locale non giriamoci dall'altra parte dunque la parrocchia di San Giovanni in via Martiri gremite commossa per l'ultimo saluto a Davide Mattioli 36 anni deceduto per overdose a Mondolfo centinaia gli amici i conoscenti i colleghi di lavoro ed ex compagni di scuola che si sono stretti intorno al fratello Luca e alla mamma e agli altri parenti del giovane originario di Cagli ma che prima di prendere casa a Mondolfo aveva vissuto a Ponte Sasso e c'è stata anche una morte improvvisa il cordoglio per Silvia l'associazione Magnafava e il quartiere di San Sebastiano si sono sgomenti per la scomparsa improvvisa di Silvia Facchini deceduta domenica all'età di 66 anni all'ospedale di Torrette di Ancona dove era stata ricoverata andiamo avanti ancora dalle notizie in primo piano dal Corriere Adriatico siamo a Fossombrone questa volta ecco la fotografia è del ponte sul Metauro su Via Risorgimento dove inizieranno i lavori sono stati stanziati 25 mila euro per la sostituzione di giunti stradali da oggi transito a corsie alternate e disagi all'ingresso principale di Fossombrone da Pesaro il Corriere Adriatico ha sei pagine tante pagine sulla città di Pesaro noi ne leggiamo soltanto una questa mattina che riferisce che riguarda la cronaca quartieri sotto scacco dei ladri raffica di furti nelle abitazioni dal parco al buio i ride nelle case i residenti scrivono al sindaco Ricci ripristini le misure di sicurezza replica istantanea dell'assessore Belloni entro dieci giorni nuova illuminazione a led su tutto il parco così si cercherà di contrastare appunto il buio che aiuta i malintenzionati Furgoncino schiaccia ecco la foto sul Corriere Furgoncino schiaccia un'auto contro la Scarpata è un incidente all'altezza dello svincolo per l'ardizio la pagina di Urbino invece la storia l'appello di una mamma mio figlio disabile e laureato ma che senza di me non può lavorare il comune non ci aiuta noi siamo costretti a pagare per farlo spostare e poi l'altra pagina l'altra pagina del Corriere quella di Cattolica tutti contrari ai nuovi outlet il settore è già in ginocchio previste due maxi realizzazioni a San Giovanni Gennari è perplesso dice valuteremo con i sindaci e poi sulla pagina di Tavuglia si parla invece della pista di Valentino Rossi che i residenti non vogliono più lì dov'è per tutta una serie di problematiche il Ranch però non lascia raddoppia si progetta una seconda pista nonostante il ricorso al TAR dei residenti Test Track SRL tira dritto pronta a costruirne un'altra una un nuovo ovale e questa è la notizia che troverete sulla pagina della Balcon capriamo adesso velocemente il Carlino in primo piano le uova caccia all'uovo produzione bassa prezzi alti alcuni supermercati della città hanno gli scaffali vuoti hanno messo i cartelli e il rialzo dei costi si ripercuote su prodotti come la pasta fresca la pagina di Fano del Carlino scopre la scabbia accuse il marito mi hai tradita caos in ospedale pronto soccorso moglie sin furia quando le vengono rivelati i modi del contagio e poi sotto anche qui rimanendo al pronto soccorso svuota le macchinette dell'ospedale all'uscita trova la polizia con le manette a Ponte Sasso l'ex colonia ad un passo dall'accordo c'è l'interesse concreto del gruppo Zaffiro leader delle case di riposo e infine la pagina di Urbino per aiutare Giorgia c'è stata subito mobilitazione grande mobilitazione l'Ateneo replica l'associazione Agorà per lei abbiamo comprato un servo scala e fatti i lavori per modificare un bagno che invece ora è attrezzato poi c'è anche un tutor di supporto il servizio accompagnamento affidato al centro Francesca che ha operatori idonei l'ultimissima pagina è per la neve che abbiamo già visto è caduta sul Catria sul Nerone sul Carpegna e che questi tre monti della provincia pesarese che si vestono di bianco la neve dunque torna a dominare la rassegna stampa con la lettura dei quotidiani finisce qui noi ci vediamo questa sera alle 20.30 intanto vi ricordo che al 338 4968 250 come sempre potete inviarci le vostre segnalazioni anche attraverso Whatsapp grazie per averci seguito a voi tutti gli auguri di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.